Buongiorno, ben svegliati. È martedì 20 agosto e questa è la rassegna stampa di Omnibus News. Rassegna stampa che ancora una volta si presenta con un'assoluta omogeneità nei titoli per quello che riguarda l'argomento. Praticamente non c'è quotidiano che non titoli sulla fine del governo, sulla comunicazione del Presidente Consiglio Conte oggi pomeriggio al Senato. Tantissime invece, come potete immaginare, le sfumature e diciamo così anche le prospettive. C'è chi auspica un governo Movimento 5 Stelle PD, c'è chi lo vede come una terribile iattura, c'è chi pronostica invece future elezioni. Allora, andiamo a vedere come ce la raccontano per l'appunto i quotidiani di oggi. Ho scelto La Repubblica oggi come primo giornale da mostrarvi perché diciamo così fa vedere le facce, i volti dei protagonisti, accompagnati dalle ultime frasi, le dichiarazioni importanti dette in queste ultime ore. Il titolo fine di un governo bellissimo, fra virgolette, era l'anno bellissimo quello annunciato da Conte. E poi invece Luigi Di Maio prende atto e dice la Lega ha accoltellato il Paese e ora inventa la bufala di un patto 5 Stelle-Renzi-Conte. Conte invece dice escludo che sia possibile qualsiasi continuità con la Lega di Salvini. E a quel punto, ecco la risposta di Salvini che dice si va verso un inciucio vergognoso che tradisce la volontà del popolo. E poi il terzo incomodo, se così lo vogliamo chiamare, ovvero Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, serve un governo forte di rinnovamento oppure è meglio il voto? E allora, appunto, eccolo qua, il governo che finisce la sua corsa dopo 445 giorni, sostiene Repubblica che Conte nel suo discorso al Senato farà un attacco a Salvini, mentre i gruppi parlamentari dei Grillini, che ieri si sono riuniti, avvisano Di Maio mai più intese con i leghisti. E dunque la crisi adesso è nelle mani di Mattarella e, vedete, messo con una certa evidenza, dai 5 Stelle, offerte di dialogo al PD per un conte bis. Questo è, insomma, il riassunto della crisi che ne fa Repubblica e, allora, visto che si parla di queste prove di dialogo, vi voglio far vedere anche, eccola qua, la stampa, il titolo della stampa, che su questo punto, diciamo, sviluppa queste ipotesi con una soluzione che ancora non era emersa. Oggi Conte si dimette, scrive la stampa, trattativa fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e governo in due tappe. Mentre Giorgetti, come sapete, esponente molto importante della Lega, si rivolge a Salvini e gli dà alcuni consigli, gli dice dovresti fare come Bossi nel 94 e stare fuori dall'esecutivo. Vi segnalo anche il fondo di Marco Zatterin, che parla di conti pubblici, perché in tutta questa vicenda poi non dobbiamo dimenticare che c'è una crisi da affrontare, e parla delle idi di ottobre, Marco Zatterin, come le idi di marzo. Dice perché il governo che verrà, che terrà, scusate, le redini di questa Repubblica politicamente confusa, qualunque esso sia, non potrà evitare di spedire entro il 15 del mese, appunto le idi, del mese autunnale, una lettera che spieghi a Bruxelles come intende amministrare il bilancio del 2020. Non ci saranno sconti elettorali né favori da relazioni e idee confuse. Il calendario è preciso e meno male, visto che una società senza regole è come una casa senza fondamenta. Quindi teniamo presente questo appuntamento, intanto ci andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere della Sera, che sintetizza, vedete in una sola riga, però i dubbi che tormentano non solo, abbiamo visto il Partito Democratico, ma anche i Cinque Stelle, divisi appunto sul PD, parla di questa assemblea tormentata, e di Maio Cauto che dice la parola al colle, perché evidentemente ci si affida all'esperienza di Mattarella. Vi faccio vedere ancora, perché è abbastanza carino, soprattutto mostra come si è veramente estremizzata questa crisi, la prima pagina del Fatto Cotidiano, sfida all'Ok Corral, vedete da una parte Conte, dall'altra Salvini, e secondo il fatto appunto oggi Conte lancerà il suo jacquise a Salvini, ministro dei no e delle assenze. Vedete come viene ribaltata l'accusa di Salvini contro i Cinque Stelle, secondo il fatto è lui il ministro invece dei no e delle assenze, che risponderà con i titoli di coda al Quirinale. E chiudiamo con questa prima parte, prima di andare in pubblicità, con la prima pagina del Tempo, il Tempo che dice si schianta l'unico governo possibile, quindi in realtà, come vedete, trova impossibile un altro esecutivo, anzi, sostiene il Tempo, c'è chi rivole il PD al potere, anche se bocciato dall'80% degli italiani, per nascondere lo scandalo di un Draghi Premier. Vedremo fra un poco perché viene nominato Draghi Premier, intanto lasciamoci con un sorriso la vignetta di Osho, vedete Grillo che consola Di Maio, dice però un po' mi manca, e dice ma sai quanti ne trovi meglio di quello? Che è la frase che tutti dicono all'amico col cuore infranto. Ci vediamo dopo la pubblicità! Allora, alle 7.11 ci sono altre tre prime pagine di quotidiani che vi voglio far vedere per, diciamo, inquadrare la questione politica del giorno. Uno è Libero, Libero che vede come una iattura, un possibile governo, PD, Movimento 5 Stelle, e infatti questo è il titolo, le truppe di Grillo si riducono a Plotoncino, attenzione che questo scappa via, eccolo qua, Movimento 5 Stelle, PD, un governo invalido al lavoro, così lo definisce Libero, e poi adesso cerchiamo di capire il perché di questo titolo, questo Plotoncino, perché in realtà sostiene Libero, i 5 Stelle sarebbero terrorizzati dal voto, visto che secondo un sondaggio citato dal Corriere della Sera, sarebbero sotto al 10%, in effetti ieri in un articolo del Corriere si parlava di questo sondaggio che sarebbe stato presentato da Grillo allo Stato Maggiore del Movimento 5 Stelle quando si sono incontrati proprio nella villa di Grillo in Toscana, ha previsioni, per l'appunto, drammatiche per il Movimento 5 Stelle, quindi meglio non andare al voto. Però sostiene Libero anche i renziani, temono di essere spappolati, Zingaretti non sa che pesci pigliare e rinuncia alla pesca, e però attenzione, dentro Forza Italia, secondo Libero, cresce la fronda pronta a sostenere l'inciucio, insomma Forza Italia che ha detto no, bisogna andare al voto, eccetera, eccetera, in realtà non sarebbe poi così compatta. E qual è la reazione di Salvini? No, ai giochi di palazzo, vergognoso tradimento del popolo. L'unica che viene assolta da Libero è Giorgia Meloni, eccola qua, vedete, ne parlano come l'unica seria, ferma, coerente e in crescita. Vediamo la prima pagina del giornale, Ricordate che prima c'era quell'accenno a Draghi, perché il nome di Draghi, che già in realtà aveva girato l'anno scorso, quando poi, ricordate, fu affidato da Mattarella a un incarico a Cottarelli, ma si parlava anche di Draghi, torna prepotente, scrive il giornale, la frittata è fatta, è evidente che avrebbe forse preferito un'altra soluzione, forse, però insomma, per ora il titolo è quello, scordiamoci il voto, Forza Italia tentata, ultimo appello a Salvini, quindi ritornano queste indecisioni di Forza Italia, questo tentennamento, ma soprattutto, eccolo qua, nel fondo di Alessandro Sallusti, una telefonata a Draghi ci allungherebbe la vita. scrive infatti Sallusti, sarà anche vero che oggi si apre ufficialmente la crisi di governo, sarà vero che Matteo Salvini è a un passo dallo schiantarsi contro il muro, avendolo scambiato, per qualche misterioso motivo, la maggioranza del consenso popolare con la maggioranza parlamentare, sarà vero che molto probabilmente non si andrà a votare, perché legittimamente nessun partito vuole suicidarsi e fare risuscitare Salvini nelle urne, sarà anche vero tutto questo, ma perché rinunciare a pensare in grande e trasformare una tragedia in un'opportunità o per dirla a Lea De Andrè a ricordarsi che dall'etame può nascere un fiore e quale sarebbe per l'appunto questo fiore che nasce, lui dice io non sono in grado di dare consigli ma se mi è permesso giocare un attimo a fare mattarella, dice io, una telefonatina a Mario Draghi la farei così, tanto per non lasciare nulla di intentato, poi ovviamente tesse le lodi di Mario Draghi che dice ha appena terminato il suo mandato alla BCE, Presidente Mattarella ci provi, quella Draghi può essere la telefonata che ci allunga la vita, il numero penso lo abbia in agenda. C'è poi invece chi come, eccola qua, la verità, invece, vedete, ritorna sui toni che avevamo visto più o meno anche su Libero, oggi provano a fare il ribaltone, l'avvocato del popolo pronto a guidare la maggioranza Ursula, una riedizione dell'operazione Monti che fece bene solo a chi si oppose. La maggioranza Ursula che però, che sapete, in realtà prende il nome da Ursula von der Leyen che è la nuova Presidente della Commissione Europea ma la verità in questo caso parla di Ursula come del personaggio disneyano della sirenetta Ursula, la strega cattiva, la strega del mare, personaggio negativo e quindi, eccolo qua, vedete, insiste Maurizio Belpietro chi tifa Ursula non ha capito la lezione di Monti e non si capisce se è più una maledizione o che cosa. E allora, però, ci sono appunto altre opzioni in realtà. Una, l'avevamo vista illustrata sulla stampa, ce ne parla diffusamente Lario Lombardo, Conte Bis e un governo Ponte per aiutare i negoziati con i DEM. Insomma, l'ipotesi sarebbe quella di dar vita a un esecutivo per mettere in sicurezza i conti, sterilizzare l'aumento dell'IVA e poi in un secondo momento verrebbe siglato un contratto sul modello tedesco proposto da Del Rio perché la questione del contratto si ripropone ma in Germania ci hanno messo più di due mesi per fare questo accordo e quindi insomma i tempi altrimenti non ci sarebbero. Parla di queste prove di trattativa fra PD e 5 Stelle anche la Repubblica addirittura ci racconta di prime ipotesi sui ministeri forse un po' prematuro però insomma mentre è interessante forse più interessante vedere l'intervista di Giovanna Casadio a Carlo Calenda che come sapete si oppone invece estremamente alla ipotesi di un governo PD e Movimento 5 Stelle dice non si risorge con un governo Frankenstein e la motivazione che ne dà e questa dice si possono fare esecutivi con chi ha idee diverse ma non con chi ha valori diversi lo abbiamo sostenuto fino a 15 giorni fa e quindi eccolo qua la insomma la preoccupazione di Carlo Calenda dal messaggero eccolo qua vediamo invece quello che potrebbe essere il timing della crisi l'ultimo pressing di Di Maio ma Conte va verso le dimissioni perché in realtà secondo quello che ci racconta questo retrosceno del messaggero non è detto che oggi si concluda tutto e perché? Perché il Movimento 5 Stelle vuole comunque il taglio dei parlamentari e quindi insisterebbe perché Conte lasci giovedì il Premier sempre secondo il retroscena firmato dal messaggero non sarebbe però d'accordo parla di una questione di dignità personale e istituzionale dunque il percorso alla fine sarebbe invece quello di andare dopo la comunicazione di oggi pomeriggio direttamente al Quirinale per tornare alla questione invece mentre lasciamo appunto da una parte i tentativi di un governo PD Movimento 5 Stelle perché sempre dal messaggero invece ma non solo ci sono altri accenni anche su altri quotidiani si parla di un Salvini che prova a ricucire e dice ma se vogliono rompere è guerra senza quartiere insomma non è detta non sarebbe detta l'ultima parola e eccolo qua vedete viene intervistato il capogruppo al Senato della Lega Massimiliano Romeo presidente appunto dei senatori leghisti che dice un bis giallo-verde mai dire mai se vanno correnzi a un tradimento insomma la partita è chiusa ma forse non completamente o almeno ieri ci sono stati dei tentativi di riavvicinamento dice Massimiliano Romeo con noi i grillini hanno dimezzati consensi con loro intendendo con i dem scomparirebbero e poi dice parliamo del tandem Paragone-Boschi sapete che Paragone è uno di coloro che più si oppongono diciamo a un'ipotesi PD Movimento 5 Stelle e allora eccolo qua vi dicevo infatti questi articoli si ritrovano anche su altri quotidiani per esempio la stampa Francesca Schianchi ci parla del consiglio di Giorgetti a Salvini Ricucci quindi non tutto è perduto però stai fuori dal governo insomma fai come fece Bossi nel 1994 oggi ci informa Francesca Schianchi a mezzogiorno ci sarà la riunione dei senatori del Carroccio per decidere la linea da tenere tra l'altro come sapete è previsto un intervento di Salvini oggi al Senato dopo Conte mentre è interessante leggersi anche l'intervista a Giovanni Toti che ormai è uscito da Forza Italia e dice adesso andiamo a votare tutto il resto è un compromesso e però non è finita qui vi voglio far vedere anche eccolo qua vedete se ne parla con una certa dovizia sul Corriere della Sera dei filodem contro i nostalgici accuse e sospetti nel Movimento perché appunto se oggi a mezzogiorno c'è la riunione dei senatori leghisti ieri invece c'è stata quella dei gruppi del Movimento 5 Stelle qualcuno però invece sarebbe assolutamente d'accordo nel formare questo governo contratto col PD dopo la Lega serve stabilità chi lo dice lo dice Luigi Gallo che è un deputato appunto del Movimento 5 Stelle fa riferimento ci dice il Corriere all'area di Roberto Fico Roberto Fico che non a caso è stato anche indicato come un possibile presidente del Consiglio futuro sul giornale invece troviamo due pagine curiosamente una praticamente dietro l'altra questa è pagina 4 poi vedremo anche pagina 6 nella quale si tirano in ballo invece i problemi diciamo così legati alle vicende giudiziarie del movimento della Lega scrive Paolo Bracalini in questo retroscena da Milano il malumore dei leghisti finiamo all'opposizione in pasto ai magistrati quindi uno dei motivi per cui in realtà si cerca di non chiudere e eccolo qua guardate perché ovviamente in tanti si sono anche chiesti il perché di questa strana tempistica ridosso di Ferragosto stavolta è Luca Fazzo che ne scrive quella strana relazione tra la crisi e il sequestro del computer di Siri il PC ancora nelle mani dell'ex sottosegretario ma se cade il governo slitta l'autorizzazione ai PM insomma vengono insinuati diciamo così altri motivi il sole 24 ore la prima pagina del sole 24 ore è dedicata invece alla notizia sicuramente allarmante infatti non a caso viene usato questo termine allarme recessione non solo per tutta l'area europea ma sapete in particolare colpisce anche la Germania da Berlino 50 miliardi per rilanciare il PIL potrebbe anche essere una interessante un'opportunità insomma per il nostro paese o meglio per tutta l'area euro perché evidentemente insomma ci sarebbe meno rigore intanto noi però sapete abbiamo il problema di disinnescare le clausole di salvaguardia in particolare quelle che riguardano l'IVA ne parla così la Repubblica il gioco dell'IVA dal primo di gennaio del 2020 scatterà l'aumento dell'imposta per 23 miliardi l'intervento per evitarlo dipenderà dalla soluzione alla crisi di governo è molto interessante e poi ne viene fatta anche una storia clausole la trovata di Tremonti è diventata una scorciatoia obbligatoria vi faccio vedere ancora la prima pagina di avvenire che invece dà molta molta attenzione ancora alle vicende della Open Arms 18esimo giorno in mezzo al mare e poi prima pagina eccola qua del mattino il titolo principale è sull'addio contro Salvini ma mi interessava farvi vedere eccola qua questa foto a centro pagina della vicenda dell'escursionista francese Simon sostiene il mattino morto 45 minuti dopo l'allarme caos nei soccorsi aperta un'inchiesta e di questo parla vedete anche la nazione e il Carlino potevamo salvarlo perché in realtà l'Italia non ha i mezzi per localizzare le chiamate di SOS in realtà però sostiene sempre il messaggero salvarlo era impossibile è stato stroncato da un'emoragia poco dopo l'ha telefonata evidentemente insomma forse davvero non si poteva fare diversamente però se ci dotassimo di questo strumento sarebbe meglio bene io mi fermo adesso ci sono le previsioni del tempo ci rivediamo fra pochi minuti per il telegiornale a dopo